Ecco Pixi, è una bull terrier, è in canile da qualche mese, è una canina con le persone molto dolce, le piace il contatto. Pixi sta soffrendo parecchio il canile in quanto per lei la vicinanza degli altri cani è un motivo di grande reattività e ansia. Infatti anche il nasone che adesso vedete è tutto arrossato è a causa degli autotraumatismi da reattività. Stiamo lavorando sul fatto di aumentare la sua tolleranza alla vista degli altri cani. Devo dire che Pixi risponde molto bene alle indicazioni dell'essere umano. È un cane consigliato a chi ha già avuto questa tipologia di razza, proprio perché i bull terrier sono cani particolari ed è importante che vada in adozione a un conoscitore di razza. Logicamente come adozione singola, in situazioni in cui il cane possa esprimere la sua energia e le sue potenzioni. In passeggiata anche l'ambiente urbano qua nel bosco è ben gestibile. Per ora veramente la sua maggiore sofferenza è essere costretta a convivere agli altri cani. La sua maggiore è sede. La sua maggiore è sede. Pocca da quella dell'applicazione è sede. Grazie.